Una nave da crociera italiana è stata respinta da due porti nel Mar dei Caraibi per un sospetto caso di coronavirus a bordo. A bordo si è accertato che c'è soltanto un caso di influenza e non di coronavirus. La nave rifiutata a causa dell'esplosione del coronavirus gli italiani diventano dei soggetti mal visti in tutto il mondo. La nave MSC Meraviglia in crociera nel Mar dei Caraibi è stata rifiutata da due porti. A bordo un sospetto caso di coronavirus che, in realtà, si è rivelata soltanto un'influenza. La paura che si potesse ripetere è un caso analogo alla MS Westerdam oppure alla Diamond Princess. I porti in questione sono stati quello della Jamaica, Ocurios, dove era prevista una tappa e quello delle isole Cayman. A bordo ci sono 4.500 passeggeri e 1.600 membri dello staff. La nave era partita da Miami martedì. È arrivata a Ocurios, in Jamaica per fare tappa ma, dopo che il capitano aveva segnalato alla capitaneria di porto un caso di influenza a bordo, la stessa ha vietato l'attracco. Così, la nave è partita alla volta delle isole Cayman per attraccare nel porto di Georgetown. Ma è successa la stessa cosa. Come si legge da TECOM24, in una nota, il Ministero della Salute ha spiegato. Chi è il soggetto con presunto coronavirus? La persona che ha mostrato i sintomi influenzali è un membro dell'equipaggio che ora è in isolamento dagli altri membri dello staff. È risultato positivo all'influenza di tipo A ed è in via di guarigione. La persona aveva viaggiato da Miami a Manila, passando per Istanbul. La nave della MSC ha continuato alla volta del Messico dove, a Cozumel, alla prossima tappa, come da itinerario previsto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.